E' importante per noi, è importante per avere un botto più in fiducia in quello che sto facendo e ovviamente per dare una mano alla squadra che era in un momento di frenesia, di tanto nervosismo cercato di dare un po' di tranquillità e di giocare la palla che era quello che ci voleva in quel momento. Per quello che ho visto dentro il campo, magari di fuori si vede diversa, è una Inter che ha fatto tanto possesso palla però noi eravamo chiusi bene, oggi non c'erano spazio e il segreto era cercare di chiuderli perché quando giovi una grande squadra e giocano bene, hanno buon piede e ti fanno male in qualsiasi momento e noi eravamo consapevoli di quello. L'importante è che noi abbiamo fatto anche il nostro gioco abbiamo ripartito bene, abbiamo giocato bene e alla fine ci siamo ritrovati tre punti importanti. Volevo fare un regalo perché il mio figlio mi aveva detto che non era possibile vincere l'Inter quindi oggi per il suo compleanno gli ho regalato tre punti per noi e ovviamente per lui perché ci deve credere anche lui. Vedere le squadre, sia tanto l'Inter come il Milan in un periodo così, fa solo male al calcio italiano, secondo me. Spero ovviamente che si riprendano perché ci sono tanti campioni e ovviamente se queste squadre stanno bene vuol dire che il livello del calcio italiano si alza, quindi spero che il ritorno vada a essere quello che eravamo prima.